Circa 200 giocatori si sono sfidati all'eSport Fest di Roma, nelle selezioni per entrare a far parte della E-Nazionale che parteciperà agli UEFA E-Euro 2020. Due tornei di Pro Evolution Soccer 2020 che si sono tenuti al Palazzo dei Congressi dell'EUR, sede del primo festival dedicato interamente ai videogiochi competitivi organizzato nella capitale. La selezione del sabato è stata vinta da Giuseppe Rice Forever 10 Frigerio, mentre nel torneo di domenica ad imporsi è stato Salvatore Sassigno Di Giacomo. Le qualificazioni proseguiranno nelle prossime settimane e i migliori 16 parteciperanno alla fase finale in programma coverciano a inizio 2020 da cui usciranno i quattro nazionali. La selezione azzurra di E-Foot prenderà parte a UEFA E-Euro 2020 che si disputerà in parallelo al primo campionato europeo itinerante della storia.